La Chiesa nella quale vive il Signore è una fraternità, in quanto tutti sono figli dello stesso Padre che è Dio. L'esperienza quotidiana però ci fa toccare con mano che non si tratta di una fraternità perfetta, fatta cioè solo di puri e di santi. Nella Chiesa è presente il peccato e a volte anche in forma grave. Per questo motivo, dice Gesù, è necessaria la correzione fraterna. Si corregge perché si ama. Il dovere della correzione spetta ciascun credente. Nessuno può considerarsi esonerato in quanto chi pecca non è un estraneo, ma un fratello e quindi non è possibile l'indifferenza o l'ostilità nei suoi confronti. La posta in paglio è alta. Si tratta di riguadagnare alla Chiesa e a Dio chi ha deviato e di ristabilire la comunione che è stata indebolita a causa del peccato. Gesù nel Vangelo propone un triplice procedimento per la correzione di un membro della comunità ecclesiale, divenuto peccatore notorio. Il primo passo, l'incontro a tu per tu. E questo passo richiede grande discrezione e riservatezza perché il fratello non si sente umiliato. Un secondo momento è rappresentato dalla presenza di almeno due testimoni per dare più peso e consistenza al tentativo di correzione. In terza istanza, il caso sarà portato davanti a tutta la comunità riunita in assemblea. Solo dopo il fallimento di questo estremo tentativo si giungerà alla scomunica. La comunità con questo atto non decreta l'espulsione dalla comunità, ma si limita a ratificare una estraneità già consumata da colui che si ostina a vivere nel peccato. Rimangono a riguardo quanto mai attuali le parole di Sant'Ommaso d'Aquino. Questa correzione, egli dice, deve provenire dalla carità, che è amore di Dio e amore del prossimo. Se ami, devi amare la salvezza del tuo fratello, ma se lo vuoi salvare, devi avere cura della sua buona fama e lo farai se lo correggi con un contatto personale, non se lo rimproveri davanti a tutti. Il brano evangelico si conclude con l'assicurazione che Cristo risorto è in mezzo alla comunità quando essa si riunisce nel suo nome. Dove si trovano due o tre riuniti nel mio nome, dice Gesù, io sono in mezzo a loro. Nel nome di Gesù ha il significato di persone che si ritrovano insieme per professare la loro fede in Lui, vero Dio e vero uomo, e per cantare inni di lode alla sua presenza e quanto facciamo nella celebrazione della Santa Messa. Anche gli ebrei professavano che quando due o tre si riunivano per meditare la parola, Dio si rendeva presente. Gesù introduce una novità assoluta. Al centro della comunità cristiana non sta uno scritto, ma la persona del Signore risorto che ha donato la vita per la salvezza delle sue pecore e ha vinto il male. Con Lui presente è possibile cambiare le relazioni e rendere manifesto l'amore che salva. Buona domenica.